Medicina Amica Commenteremo subito insieme al nostro ospite che so essere davvero molto apprezzato, anzi la nostra ultima puntata insieme mi pare fosse dicembre dell'anno scorso fu un successo inaspettato e dato l'argomento decisamente complesso fu anche un successo davvero inspiegabile ma spiegabile forse solo con la grande intelligenza, la grande curiosità che ci lega al nostro pubblico che caratterizza il nostro pubblico, allora non voglio perdere più tempo ma presentarvi il nostro ospite che ringrazio moltissimo per essere qui che è il professor Pier Giorgio Spaggiari Grazie Buonasera professor Spaggiari A chi ancora non lo conoscesse mi auguro che collegati un po' da tutto il paese ci siano davvero anche nuovi telespettatori Voglio dire che è veramente un personaggio straordinario, medico e fisico, laureato in fisica e in medicina e chirurgia naturalmente, specializzato anche in medicina dello sport con una prestigiosa laurea honoris causa in medicina quantistica presso l'università di Odessa Nominato in Cina professore honoris causa del First People Hospital di Shanghai che è una delle città più importanti, più popolose naturalmente della Cina Dirigente di ricerca dell'Istituto di Tecnologie Biomediche Avanzate del Consiglio Nazionale di Ricerche, il CNR Già docente universitario e relatore di campagne nazionali e internazionali e autore di numerose pubblicazioni scientifiche Due libri molto belli che forse tutti dovremmo leggere sono Medicina quantistica e Le meraviglie dell'acqua E credo che questa sera dedicheremo proprio all'acqua buona parte della nostra trasmissione e avverto anche i telespettatori avremo dei semplici ma straordinari esperimenti fatti qui tutti insieme E vorrei partire però con una intervista, la famosa intervista cremonese perché non ho detto che il professor Pier Giorgio Spaggiari ha ricoperto anche incarichi prestigiosi nel corso della sua prestigiosa carriera Ed è stato anche direttore generale di molti ospedali lombardi che ha portato veramente a livelli molto elevati E anche il nostro, l'ospedale di Cremona, la città da cui parte il nostro segnale e le nostre trasmissioni Ed è stato un incontro veramente elettrizzante per noi giornalisti perché ci ha coinvolti tutti quanti in appuntamenti internazionali davvero insperati Ecco direi così Partiamo da questa intervista cremonese, partiamo quindi da un libro che ha raggruppato personaggi veramente eminenti del mondo scientifico Tra cui abbiamo ritrovato proprio lei E spieghiamo anche e soprattutto il senso del nostro titolo, professor Spaggiari Bene, intanto grazie, grazie per le cose che lei ha voluto dire E soprattutto per il successo davvero incredibile che abbiamo avuto nello scorso dicembre Quando per la prima volta io ho parlato di questo tema, medicina quantistica Devo dire che le telefonate sono state talmente tante, non solo quelle in diretta Ma quelle che ho ricevuto dopo dalla Sicilia, quindi l'estremo sud, dall'estremo nord Io ho ricevuto telefonate incredibili, ho avuto molte persone che hanno richiesto di venire a farsi visitare E provare tutto quello che noi abbiamo detto in quella puntata Devo dire che non ricordo niente di quello che abbiamo detto Quindi io sono stato costretto a risentire la registrazione che fortunatamente ho ritrovato Per mettere su un foglio tutti gli argomenti che erano veramente tanti E li abbiamo trattati, direi, in maniera molto approfondita Allora, questa volta mi sono domandato Ma da che parte partiamo? Facciamo un seguito della prima puntata? Ma mi sono domandato se magari le persone che stanno guardando adesso hanno seguito la scorsa puntata E siccome il titolo che noi abbiamo dato Tutti viviamo sulla cresta dell'onda Che è un titolo meraviglioso Che vuol dire un sacco di cose che io cercherò di spiegare Ma l'onda, se le persone che hanno seguito la volta scorsa Sono delle onde che sono elettromagnetiche Che ci contornano Che addirittura entrano nel nostro corpo E poi vedremo nello sviluppo di questo discorso Vi farò ben capire cosa ha voluto dire Tutti viviamo sulla cresta dell'onda Ma poi visto che parleremo di acqua Anche l'acqua viene rappresentata da un'onda E la vita è nell'acqua Se non ci fosse l'acqua Non ci sarebbe la vita E in effetti vi devo dire Che se non ci fosse l'acqua Nell'interno del nostro corpo Non avverrebbero tutte le reazioni biochimiche Che noi abbiamo studiato in università E che i nostri colleghi medici Giustamente mettono al centro della medicina Ma non è solo così Perché? Ma perché se non ci fosse l'acqua E le cose che io vi farò vedere tra poco Probabilmente non ci sarebbero le reazioni biochimiche Quindi la parte delle onde elettromagnetiche Che nasceranno Ve lo dico già È un anticipo Nasceranno dall'acqua Permetteranno di dimostrare la validità Di tutte le formule biochimiche Che noi abbiamo studiato Quindi quando prendiamo un farmaco In poche parole Andiamo a modificare una reazione biochimica Quando mangiamo L'alimentazione va a modificare Delle reazioni biochimiche Avvengono delle reazioni biochimiche Ma badate bene Che se non ci fosse Tutto quello che io andrò a raccontarvi Sommariamente evidentemente Perché non faccio una lezione universitaria Ma vedrete Che se non ci fosse Quello che riconterò Non ci sarebbero tutte queste Benissimo E poi quello che mi piace sottolineare Mi riferisco sempre a quel libro Che tra parentesi abbiamo qui in studio stasera E a quella intervista Insieme a ospiti Altri intervistati Veramente prestigiosi Anzi lei è quasi di rimpettaio Di un premio Nobel Che è Luc Montagnier E devo dire che avete lavorato Veramente sugli stessi temi Negli stessi campi E lei è stato definito però anche un pioniere Perché è chiaro Vi ricordo che a quel convegno Si è notato anche la presenza Di Silvio Garattini Come no? Il famoso farmacologo Certo Anzi direttore Più che anche il farmacologo E disse Fu interessato Ma disse in maniera un po' scettica Ma sì ma Qui siamo alle grandi teorie Ma bisogna poi arrivare Alla pratica Quindi bisogna arrivare Alla capacità di curare davvero Con la medicina quantistica Cosa che lei sta facendo Professore però Ed è questo Credo il messaggio Di grande speranza Per il nostro pubblico In un momento di grande confusione E disorientamento Sapere che comunque C'è una medicina Del futuro Che è già Tra noi Che ci salverà Ha dei grandi problemi È già il presente Mi fa piacere Che lei abbia ricordato Questo avvenimento Perché quel famoso convegno È stato organizzato da me Proprio quando ero Direttore generale di Cremona E abbiamo voluto Mettere insieme Forse Le persone più importanti Della fisica Da una parte E anche Le persone Che chiaramente Potevano Contrastare Le nostre idee Devo dire Che con molta Direi felicità Io ho ascoltato Per la prima volta Il Nobel Montagnier Che ha parlato Prima di me E ha detto Delle cose Che erano Musica per le mie orecchie Perché Montagnier Che è un Nobel Che ha preso il Nobel Utilizzando la sua Profonda conoscenza Medica Clinica È andato a finire A deviare Quasi Sulla parte Che era Di biofisica Quindi io sono rimasto Meravigliato Sono rimasto Affascinato A tale punto Che quando io Poi ho parlato Ho detto Ma Caro professore Ma lei Ma lei Ha detto Delle cose Che noi In questo caso Era un plurale Maestati Io andavo Dicendo ormai Da lungo tempo E quindi Voi capite bene Che sentirselo dire Da un Nobel Che arriva Tra l'altro Dalla medicina Tradizionale E devo dire una cosa Che quando Qualche uno dice Ma queste cose Qui Hanno un po' Il senso Dell'alternativo No vi sbagliate Vi sbagliate proprio Noi non siamo Alternativi A nulla Noi siamo Persone Che hanno Studiato medicina Come tutti i miei colleghi Che mi stanno a guardare E che guarda caso Hanno allargato Il loro orizzonte Perché E perché arriviamo Con una laurea In fisica Quindi la medicina Quantistica E la fisica Quindi quantistica È il nostro pane Non possiamo dire Che io devo fare Un grande sforzo Intellettuale A collegare Quello che ho studiato Nei quattro anni Di fisica Con quello che ho studiato Nei sei anni Più la specialità Di quattro anni No Non faccio fatica Capisco però Che ci sia Una grande Fatica Da parte Dei miei colleghi Che avendo studiato Solo La medicina Definita Classica Quella che è la mia E se parlo Di fisica Evidente che sembra Che io parli Un altro linguaggio Ma non è così Non è così Per inciso A quell'epoca Il professor Montagnier Stava studiando Le frequenze Dei batteri patogeni Frequenze molto basse Circa 2 Hz Se ricordo bene E anche approcciava Le frequenze Di una parte Del DNA Dei virus Anche lì Frequenze molto basse Che se intercettate Potevano dare Spiegazioni Anche di alcune Patologie Molto frequenti Ai nostri giorni Per esempio Le patologie oncologiche Autoimmuni Soprattutto Per cui voglio dire Che poi in pratica Si va a parare In campi Molto Molto presenti Nel quotidiano Ecco E che adesso Io vi dirò Il DNA Che è Il componente Fondamentale Del nucleo Della cellula È una doppia elica E questa doppia elica È un circuito Risonante Ve lo farò vedere Tra poco E allora Se è un circuito Risonante È in grado Di emettere Delle onde Ma se è in grado Di emettere Delle onde Vuol dire Che è in grado Di riceverlo Ecco allora L'esperimento Che lui ha fatto Su un pezzo Di DNA Che è riuscito A decodificare A mettere Memorizzare In un computer E poi mandarlo Via internet In alcune università Italiane Tra l'altro E guarda caso Nell'università italiana Lui è partito Da Parigi I segnali Sono partiti Da Parigi L'esperimento È partito Da Parigi E l'università Di Salerno È riuscita A riprodurre Esattamente Mettendo In un bicchiere I componenti Di quel pezzo Di DNA E utilizzando Il campo Elettromagnetico Ricevuto Attraverso Il computer Questa è Fantascienza Questa è Fantascienza No Abbiamo dimostrato Che questa è scienza E allora Capite bene Che per i nostri Colleghi Che sono abituati A lavorare Con Dei cliché Che sono Detto Sacrosanti Che io riconosco Ma sono tutti Basati sulla biochimica Evidente Che questo è un linguaggio Profondamente diverso Ma questo linguaggio Badate bene Non è un'altra cosa Rispetto al linguaggio Della biochimica È il rovescio Della medaglia Noi continuiamo Guardare una cosa E io dico Ma perché non guardate Anche la faccia opposta Punto di domanda E nessuno mi potrà dire E no Ma tu devi Tu mi sposti Tu ragioni In altro modo No Ragiono nello stesso modo Ho una visione Che tiene conto Della prima faccia E della faccia opposta Allora Professor Spaggiari Diciamo che Per il futuro L'ottimo sarebbe Che la chimica La fisica E la biologia Fossero tutte insieme Per curare Giusto? È giustissimo Ma le devo dire di più Che se lei si ricorda Quando abbiamo fatto Non facciamo l'universitari La media superiore Ma quando il professore di chimica Vi ha fatto vedere Ci ha fatto vedere La struttura Dell'atomo Eh Parlava il linguaggio Che noi abbiamo Sentito di nuovo Col professore di fisica Anche il professore di fisica Parlava dell'atomo E della struttura Dell'atomo Quindi già lì C'era una netta Correlazione Tra la chimica Da una parte E la fisica Dall'altra Poi certo Il professore di chimica È andato verso le reazioni Chimiche Il fisico Ha fatto delle relazioni Che erano un po' diverse Ma la partenza Era esattamente identica Allora l'integrazione Tra la chimica e la fisica C'era già E adesso il discorso Della biologia Ha fatto bene lei A richiamare questo Perché vede E cari ascoltatori Vedete Ma oggi La medicina Si deve per forza Chiamare Medicina integrata E io continuo a sottolineare La medicina È una sola Ma se io Vado in Cina Dove sono stato Mi hanno dato Il professore onorario In Shanghai E cosa ho visto là? Ho visto delle cose Che per me erano abberranti A parte Gli ospedali fatiscenti A parte i fili Che erano Altro che Attenzione Che qui Dobbiamo stare a dire Attenti a tutte le cose Là i fili Erano così Volavano Volavano da un pezzo All'altro Del soffitto Quindi per me Era incredibile E le sale operatorie Che ho visto Erano pazzesche E ho capito Che i cinesi Hanno un sistema immunitario Incredibile Perché io non mi sarei mai Fatto operare In quelle condizioni lì Ma però Cosa ho visto? Ho visto che L'anestesista Faceva Addormentava le persone In sale operatorie Con l'agopuntura Con l'agopuntura E io mi sono chiesto Oh ma qui sono tutti matti Ma come? Con l'agopuntura Quando noi abbiamo Sistemi complessi Ultramoderni Controlliamo tutto In sale operatoria Oserei dire che in sale operatorie Nessuno muore Perché agiamo immediatamente Abbiamo il controllo Di tutti i parametri E là Faceva l'agopuntura E mi sono chiesto Ma allora Ma qual è la base? Quale può essere La base L'agopuntura? Non puoi pensare Che se uno Infila Degli Degli spilli In tutte le posizioni Del corpo Tra l'altro Anche abbastanza poche E quello lì Lì È bello tranquillo Io gli posso fare Qualunque cosa Lui mi guarda Lui parla Non capivo niente Di quello che diceva Parla E a questo punto Non sentiva dolore E allora? Ma quella lì È un'altra medicina Non possiamo dire Un'altra medicina Perché se la medicina È unica Vuol dire che sono io Che non conosco la loro E probabilmente loro Non è vero Loro conoscono anche la nostra Perché in effetti Noi abbiamo avuto Medici cinesi Che sono venuti Nelle nostre strutture E devo dire Che i cinesi Hanno molto apprezzato Le cose che noi Abbiamo insegnato loro E allora vedete Che la medicina Comincia a avere Ma la cinese È un'altra No? È questa Ma perché l'indiana Quelle che fanno In India Che è diversa Rispetto a questa È un'altra medicina Ancora? No? E allora vedete Che la medicina È importante Oggi dire La medicina Deve essere Per forza È integrata Ma da cosa È integrata Se non da altre Conoscenze Che provengono Dalle scienze Perché io Quando parlo Di fisica Quantistica Non è che Dico fuori Delle storie Dico e mi attengo A leggi Leggi Della fisica Moderna Che hanno dato Origine A dei Nobel Quindi I miei padri Della fisica Quantistica Sono quelli Dell'inizio Del novecento Cari amici E hanno nomi Altisonanti E loro Hanno preso Tutti il Nobel Poi noi diciamo Sempre Che è Einstein Ma non è vero Einstein è quello più noto Ma ci sono Nomi veramente Importantissimi Da Borger Studiato l'Atomo Da tutti gli altri Che insieme Prima E dopo Einstein Hanno preso il Nobel Allora professore Prima di passare Alla fase Diciamo Quella pragmatica Degli esperimenti E avendo Premesso I nostri telespettatori Che dedicheremo Buona parte Della trasmissione All'acqua Le meraviglie Dell'acqua Io volevo chiedere Così a livello Di informazione Perché io e lei Ci siamo sentiti Qualche minuto Per telefono E mi ha ricordato Quello che avevamo detto Nella prima Precedente trasmissione Che siamo immersi Effettivamente In onde elettromagnetiche È proprio Un'informazione Di quella che lei Ha definito Di tipo biofisico Però mi ha detto Una cosa Che qualcosa sappiamo Cioè che ci sono Anche molte onde Di disturbo E poi magari Se vuole Ne parleremo Ecco queste onde Elettromagnetiche Queste onde Della telefonia Che ci rendono Anche un pochino Cupi per il futuro Però la Terra stessa Io non avevo mai considerato Che anche il nostro pianeta Il nostro suolo Emette delle onde E lei mi ha detto Una cosa per me Sconvolgente Che vorrei ripetesse In pochi minuti Anche i nostri Telespettatori Ovviamente Sì Voi sapete che la Terra Comunque Si può vedere Come Circondata Da delle maglie Vere e proprie In cui ci sono Dei nodi importanti E qui i nodi Rappresentano Frequenze La frequenza La frequenza La frequenza di quel nodo Che è stata misurata Nel tempo Era circa 7,38 Hz L'unità di misura Della frequenza È l'Hz Ovvero Il numero di oscillazioni Nell'unità di tempo Che è il secondo Beh Adesso Che cos'è successo Di quei punti La frequenza È 7 Abbiamo detto 38 Ma tende a diventare Sempre maggiore Beh Uno potrebbe dire Ma E cosa mi interessa E va bene Aumenterà Ma Cos'è dovuto L'aumento Di queste Frequenze È dovuto Al fatto Che stiamo Modificando La situazione Ambientale Del nostro Povero pianeta Abbiamo satelliti Da tutte le parti Abbiamo ripetitori Da tutte le altre parti Andiamo su Marte Andiamo sulla Luna Andiamo E cosa utilizziamo Per mandare I nostri satelliti Intorno alla Terra Artificiali Cosa utilizziamo Dei segnali Elettromagnetici Delle onde E la Terra A questo punto Poverina Che aveva Questa maglia caratteristica La maglia caratteristica È diventata Sempre più alta Bene Eh ma Io l'altra volta Ho fatto Forse una valutazione Il nostro cervello Così come gli altri organi Ma parlo del cervello Perché tutti lo sanno È caratterizzato Da Delle Frequenze Che vanno Dalle onde Alfa Le beta Le teta Le delta Che guarda caso Partono da basse Frequenze E vanno Fino a circa 15 hertz Ebbè ma se io dormo Come che Noi tutti Dormiamo Una certa ora Dovremmo riposare E quindi Dovrei essere Messo Il mio cervello Messo nella condizione Di avere Non frequenze Frequenze di disturbo Che sono sempre lì E guarda caso Sono quelle della terra Le prime frequenze Di disturbo Sono quelle della terra Ma 10 hertz E un pochettino di più Va nel mio sonno Che dovrebbe essere Quasi profondo Ma che non diventa profondo Perché viene disturbato Da questo rumore Di fondo Da questa frequenza Di fondo E allora voi capite bene Che sembra una cosa ridicola Ma non è per niente Quando uno dice Ma io non so perché Ma io mi alzo stanco Ma mi sembra di non aver riposato Ma no Ho dormito E ma tu Perché ti alzi stanco? Perché È perché hai dormito male Ma da cosa? Forse dalle onde elettromagnetiche Quelle lì Che sono diventate Troppo alte E quindi entrano Nella zona di risonanza Del tuo cervello Oppure perché Hai tutte delle onde In casa tua Che sono Le basse frequenze Da 50 hertz Quelle della luce Quelle che avete Nella bajur Sui letti Quello che avete Nella televisione Che è alimentata A 50 hertz Ma guarda a caso Viene alimentata In continua Quindi diventa A 100 hertz Magari dal telefonino Che caricate in camera Non fate questo Perché comunque Il telefonino Emette sempre Poi faremo un esperimento Che vi piacerà Tra poco E a questo punto E portatelo via Mettetelo via Perché quell'alimentatorino Quello piccolino Che sembra ridicolo Fa aumentare Fa aumentare L'abbiamo spiegato Ora proprio Se non si capisce Quale danno Possiamo arrecare Perché poi Il nostro sonno È fonte di grande benessere Se è un buon sonno Se riusciamo A raggiungere La fase profonda Ci rigeneriamo Gli organi Gli ormoni Tante cose Entrano in ballo Quindi è importantissimo E soprattutto Ricordiamoci Che il buio È amico del sonno Che quindi Dobbiamo abbassare Già un pochino Prima le luci E fare dei piccoli riti In sostanza Adesso abbiamo concluso La prima parte Ma io vi raccomando Non andate via Perché penso Che sarà Altrettanto importante Anche esaltante Se volete Assistere a questi Piccoli esperimenti Che ci apriranno Veramente la mente Grazie Ben ritrovati Dunque Tutti viviamo Sulla cresta dell'onda E insieme al professor Pier Giorgio Spiagliari Medico Fisico Ricercatore Insomma Una persona Con una Un'esperienza Una carriera Veramente Lunghissima E notevole Stasera Dimostreremo E renderemo Cercheremo Di rendere Accessibile A tutti Una materia Complessa Ma come avete Già intuito Molto Molto Affascinante E molto Legata Proprio Al concetto Che noi abbiamo Di salute Salute vera E profonda Salute Che ci pone Al centro Dell'universo Ma siamo Anche se siamo Solo Semplicemente Una piccola parte Noi Dobbiamo vivere In armonia Con tutto ciò Che ci circonda Quello che non Conosciamo Anche Allora Professore Ci Ci introduca In queste Meraviglie Io penso Che resterò Qui Anche Per motivi Di sicurezza Covid E Come i nostri Telespettatori Cercherò di seguire Cercherò di capire Bene Allora possiamo Partire con Alcuni concetti Che poi Rifarò vedere Che sono legati Al concetto Della Rissonanza Allora prima Che io mi alzi E metta la mascherina Che è imposta Siamo tutti lì Sì Sì Va bene Perché dovrò fare un esperimento Con un'altra persona E quindi dovrò Per forza metterla Allora Rissonanza Rissonanza È un termine Che in fisica È abbastanza Semplice Ma Rissonanza Ve la farò vedere Partirò dalla Rissonanza Meccanica Poi farò vedere Una risonanza Elettronica E poi farò vedere Una risonanza Nostra Ovvero Una risonanza Del corpo Umano E sarà la cosa Più interessante Questa Allora io adesso Mi alzo Vado A raggiungere Un altro La nostra segretaria Di redazione Una delle nostre Segretarie Un'altra segretaria Levina Un'altra Sì Sono tre Allora mi metto La maschera Hola Allora Io partirò Con Un esperimento Vedete Ho un Martelletto E guardate E ho Una forchetta Vedete Di metallo E guardate Un po' Ho esattamente Un'altra Identica Forchetta Sono due Vedete Se io le confronto Sono due Sono fatte Dello stesso metallo Hanno le stesse Dimensioni Le metto Qui perché Se no Non posso Tenerle in mano Perché ho solo Due mani E che cosa Posso vedere Seguite il mio Esperimento Adesso io Ecciterò Questo Che si chiama Diapason Questa forchetta E quella che voi vedete Spesso Con i maestri D'orchestra Che arrivano Con questo Diapason Urtono il Diapason Sul leggio Il diapason Vedrete Si metterà A vibrare E tutti Gli Orchestrali Mettono Praticamente In Si dice Rissonanza Il loro strumento Con L'eccitazione Del diapason Che il maestro In effetti Ha fatto vibrare Allora Guardate un po' Cosa succede Concetto di risonanza Io adesso Do un colpo Con questo martelletto A questo diapason Va bene E poi Bloccherò Il diapason E guardate Cosa succede Abbiamo messo Un microfono Perché voi Ascoltiate bene Cosa è successo Si è messo A uscillare L'altro No non ci credete Va bene Facciamo così Diamo una botta A questo E' un miracolo Questo Perché E va perché Io ho citato Questo E si è messo A suonare Questo Questo concetto E' un concetto Che in medicina Noi conosciamo Perché voi Farete tutti Gli esami Di risonanza Magnetica Nucleare Le vostre cellule Ubbidiscono Risuonano Si dice Allora La risonanza E' l'ubbidienza E perché Questo Che è citato Fa in effetti Ho preso Guardate Un diapason Non è una brutta cosa Che faccio Un diapason Piccolino Al posto Di questi due E avessi Eccitato questo Secondo voi Questo qui Si metteva in moto Neanche per sogno Perché E perché Era un diapason Diverso Di dimensioni Diverse Magari anche Di materiale Diverso E a questo punto E a questo punto È chiaro Che non Avrebbe avuto La capacità Di muoversi Ovvero Di risuonare E allora Qual è la condizione Di risonanza E che i due Sistemi Siano esattamente Identici Ecco cosa Vuol dire Rissonanza Poi ho portato Una cosa Che voi Tutti Conoscete E beh Questa qui Ecco E' una radio Vedete che Se io giro Sento Una Se giro Ancora Sento un'altra Ma non sono qui Per farvi sentire La radio Adesso Ve la smonto Così Vi faccio vedere Che riesco Anche A smontare Le cose Eccolo qui Eccolo qui Ecco Guardate Questo circuitino Qua Guarda Questo Non ve lo spiego Non vi faccio Una lezione Di fisica Questo Se io lo giro E' un condensatore Variabile E' quello Che mi permette Girando Di sentire Una frequenza Se ne giro Un'altra Sento Un'altra Frequenza Sono onde Diverse Così come In questo momento Voi state Assistendo Alla televisione Telecolor Che ha la sua Frequenza E quindi voi Siete sintonizzati Il vostro televisore Risuona Sul segnale Messo dall'antenna Che sta qui in cima Ecco Questo è un fenomeno Di risonanza Elettronica E io posso Variare La risonanza Girando Questo commutatore Che è un condensatore Variabile Ma non faccio Una lezione Di fisica Ma adesso Arrivo al bello Della vicenda Oh c'è qui Una segretaria Si vuole alzare Non le faccio Eh attenzione Perché sono un medico Posso agire subito Ma non conviene Allora Io farò Una Direi prova Un test Sulla forza E sull'equilibrio Che lei ha Qui non si spaventi Se lei mi mette Le mani dietro Così Guardi Con le mani Incrociate bene Evidente Che qui Non ci vuole Un genio Della fisica Per capire Che se io adesso Applico una forza Alle sue mani E la spi No no Lei Tenga le mani Belle cose Se no Se no Lei non si sposa E' pronta Bene Allora io spingo Di qui Che cosa succede E che lei Viene indietro Giustamente Giusto Adesso allora Io tiro fuori Una specie di card Guardatela Eccola qua Questo è un circuito Scillante E' un circuito Tipo quello Che vi ho spiegato E quello che Tra poco Vi farò vedere E' una card Eccola qua C'è dentro Vedete Impresso Un circuito Che è stato Schiacciato Dentro questa card Sto togliendo La marca Così non facciamo Reclama a nessuno Questo è il circuito Scillante Allora Vuole rimettere Le mani dietro Adesso io Prendo questo Circuito Scillante E lo metto A contatto Potrei mettere Scusi Lei c'ha anche Guardi Gliela metto qui Così almeno Più contatto Di così Non so come potrebbe essere Va bene Pronta Allora guardate un po' La risonanza Che io ho trasferito Alla segretaria Che cosa fa Applico una forza Che è notevolmente Più grande Rispetto a quella di prima Vado Tenga bene le mani pronte Ci siamo Vado Certo Cos'è successo signora Non si è mossa Non si è mossa Come mai Vogliamo fare la prova del nove Petra togli Perché se no magari Giustamente I nostri telespettatori Pensaranno che stiamo bleffando Che io ho ridotto Ho ridotto la forza Perché si terrà così Adesso spingo molto meno Lei è pronta? Ci siamo? Che è successo? Dai rifacciamolo Facciamo vedere che Mi piacerebbe Che ci fosse un altro Che spinge Perché se no magari Uno veramente crede Che io spinga di meno O di più Qualcuno dei nostri tecnici Si vuole offrire? Se volete Lasciamo una camera E' pronto? Solitaria magari Pronta? Vado Guardi È solo quasi Una cosa pazzesca Giusto? Adesso Le faccio un regalo Vuole prendere Il foglio di carta C'è una penna E firmare Su quella carta Il suo nome e cognome Il suo nome In modo tale Che la La scrittura Sia proprio la sua Va bene? Perché se poi Dopodiamo Questo foglio di carta Alla dottoressa Ha una firma diversa E quindi non agirà Sulla Ecco Eccola qua E' la firma Guardate cosa faccio Io attivo Questo pezzo di carta Mentre questa qui E' un circuito oscillante Ve l'ho detto Io lo attivo Guardi E' la firma E' la firma Bene Questo pezzo di carta E' talmente grande Per fare una firma Così piccola Che insomma Siamo Ecco Eccola qua Sua firma Gliela metto qua Questa poi Se la tenga di ricordo E la metto nel portafoglio Perché la proteggerà Dalle onde elettroniche Vuole rimettere Ancora le mani? Posso? Vado? Vado Cosa è successo? Non si è più spostata Allora Questa se la tiene per ricordo E adesso Dottoressa Ci spiegherà qualcosa Le faccio vedere Una cosa Che ha Dell'incredibile Tenga Questa Ah no no Se la mette dopo Questo è il suo telefono? Vabbè Un bel telefono C'è lì Quasi come il mio Però Allora Vuole Non possiamo dire Il suo numero telefonico Perché sennò La chiamano tutti Allora Facciamo Facciamo una cosa Mi digita lei Il suo telefono In modo tale Che poi lo cancelliamo Non la chiamo io Guardi cosa stiamo facendo adesso Sono molto incuriosita Allora Il numero è questo Io faccio Squillare Il suo telefono Però Attivo il mio telefono Vedete che ho ripreso La card Che è un circuito Scillante Allora Schiaccio Faccio Ah no Prima faccio una cosa Però Così almeno Vediamo come reagisce Signora Riprovo Riprovo Non faccio Neanche uno sforzo Minimo Lei perde l'equilibrio Voi perdereste Tutti l'equilibrio Adesso allora Se lo tenga pure in tasca Ritorno il suo numero Orco è sparito Bello della diretta È questo È sparito Sì Me l'ha messo? Guardi eh Attivo il mio telefono Sul numero della segretaria Ok Scusa Sta suonando il suo? Bene Non deve rispondere Poteva rispondere ovviamente Ma voglio Non mi interessa Vuole rimettere le mani? Ci siamo? È pronta? Vediamo Che è successo? Ha visto le energie Ha visto le onde Ma mi piacerebbe avere Se mi consente Un tecnico Può raggiungermi un attimo? Vi autorizzo Uno dei due Nessuno vuole partecipare Allora Orassio Orassio puoi? No? Vengo io? Sì venga lei Noi vengo io allora Però non ho la mascherina Quindi sono Beh La mascherina Non 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 Ah sì ecco Guardi guardi Abbiamo una mascherina Una mascherina Nuova Non usata Sì ma ci mancherebbe No e beh Oh cavolo Grazie Se dobbiamo essere seri Dobbiamo essere seri Fino in fondo Allora Ecco dottoressa Adesso lei rimarrà meravigliata Lei rimarrà meravigliata Dice? Sì guardi eh Eh però Ah Ecco lì metta questo Vuole mettere lei le mani dietro così? Sì Eh no In modo tale che siano così Ah così In modo tale che io Ecco Pozzo? Sì Spingo eh Sì Che succede? Viene subito indietro Giusto? Sì Ma questo No non è veramente uno scienziato Non è da scienziato Eh dottoressa Vuole guardare negli occhi La sua collaboratrice? Sì Visto bene? Sì Vuole rimettersi indietro? Riprovo? Adesso lei può anche non guardarla Eh può guardare le telecamere Ah quindi non mantengo il contatto visivo? No 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 Inutile No Posso? Sì Vado? Sì Che cosa è successo dottoressa? Mi sento una forza incredibile Non mi sposto E secondo lei che cosa è successo? Guardando gli occhi solo della sua segretaria Ah mi ha trasmesso qualcosa Esatto brava Lei è stata attivata dalla card e dal telefono che abbiamo modificato Lei ha guardato negli occhi, ha trasferito la carica attraverso l'onda che in questo caso è elettromagnetica ma visiva È arrivata su di lei Lei ha risuonato sulle frequenze che sono state modificate dalla card e a questo punto lei è stata direi rinforzata Sì parecchio Parecchio vero? Fantastico Non è che abbiamo il fatto eh Fantastico Fantastico davvero Allora possiamo direi di ringraziare lei Ringraziamo Ledina E adesso E la card? La card la riprendo io Ok Adesso la radio l'ho smontata ma la lasciamo smontata Va bene allora ritorniamo E possiamo andare Benissimo A discutere Di questo Di questa cosa Meravigliosa Bene Posso togliere la mascherina no? Penso a questo punto Sì anch'io posso togliere la mascherina Ok Hola Eccoci E questo Cosa ha voluto dimostrarci Professor Spaggiare? Ha voluto dimostrare che i segnali Che possono agire sul corpo umano Sono talmente bassi Talmente modesti Che attraverso quel tipo di segnale che io riesco a generare Ma vede che la card non è alimentata Non c'è una batteria Quindi vuol dire che io prendo l'energia per alimentare questo circuito Dall'ambiente, dalle luci, dai fotoni, dai campi che ci sono È attivata Continua a essere attivata E a questo punto io posso con dei segnali che sono veramente modestissimi Riuscire a condizionare il comportamento dei campi elettromagnetici Che come lei ricorderà la scorsa volta Ma adesso penso che lo richiameremo Sono generati dalle nostre cellule, dai nostri organi E questo è una cosa molto importante per dimostrare Che se io agisco così con campi elettromagnetici Che sono veramente ridicoli Si figuri cosa succede quando veniamo investiti da campi elettromagnetici Che sono di grande intensità Come ad esempio quelli che possiamo avere attraverso i pali di trasferimento di energia I punti radio I punti per la trasmissione di questi telefonini La cui frequenza di trasmissione tende a diventare sempre più alta Parliamo del 5G Adesso siamo nell'epoca del 5G Però ci sarà il 6G Però ci sarà il 7G E abbiamo un motivo di preoccuparci Professor Spaggiari? Certo che abbiamo un motivo di preoccuparci Perché come l'ho detto Noi siamo dei circuiti ricetrasmittenti E questo è un concetto nuovo della medicina Perché come l'ho detto Vado a lavorare sull'altra faccia della medaglia Quindi non è più la biochimica Ma è la biofisica che agisce E siccome noi abbiamo questa antenna Che è esattamente quella presente nel DNA delle nostre cellule È evidente che io ricevo segnali di disturbo E questi segnali di disturbo fanno molto male Ovviamente Perché poi adesso vedremo E c'è qualcosa che potremmo fare per mitigarli Allora Io penso A parte un uso assennato del telefono D'accordo Ma qui il problema forse è più dei ripetitori Dei trasmettitori Dei trasmettitori eccetera Dei ponti radio Pensi che col famoso 5G è nato Come la rete degli oggetti Cosa vuol dire la rete degli oggetti? Vuol dire Che queste onde ad altissima frequenza Potranno permettere di fare delle cose Da un certo punto di vista eccezionali Perché? E perché io dal mio telefonino Potrei dire che adesso Accendo il gas in casa mia Accendo le luci Tiro giù le tapparelle Faccio quello che voglio A distanza dal telefonino Ma addirittura Un sindaco che mi ha convocato Nel sud Perché era un medico E voleva avere Alcune informazioni Sui danni da 5G Mi ha detto Ma vede professore Noi avremmo però Da quello che ci installa Il 5G tutto gratis E io ho detto Ah interessante questo E qual è la motivazione Che lei vuol mettere il 5G In una cittadina del sud Che non avrebbe neanche bisogno No Ma la telemedicina Professore La telemedicina Noi abbiamo un sacco di anziani Lei capisce bene Che con il 5G Io faccio il medico di base Io sindaco Faccio il medico di base E posso controllare I miei pazienti Utilizzando Ecco il suo schermo televisivo Tutti hanno la televisione in casa Benissimo Io chiamo Con questo Onde Che arrivano da tutte le parti Io vedo il mio paziente Là nel televisore Come voi state guardando me In questo momento Bene un vantaggio enorme Perché non lo sento solo Lo vedo Vedo il colore della pelle Vedo che ha le occhiaie Vedo che è pallido E gli posso dire Beh adesso Scusi Metta questa molletta al dito Che non è altro Che un misuratore Della percentuale di ossigeno Vediamo i battiti Eccoli qua Guardi Gli dico tutto a distanza Quindi capisce Che è un grande vantaggio Ma cosa è un grande vantaggio? Ma la rete degli oggetti Ma io sono un oggetto Lei sindaco è un oggetto I suoi concittadini sono oggetti Gli animali sono oggetti Le piante sono oggetti Sono materia vivente Quindi a questo punto Non è possibile fare un ragionamento Dicendo che avremo dei grandi vantaggi Certo Riusciremo ad andare in giro Anche senza l'autista Noi guideremo la nostra macchina Senza guidarla Perché? E' perché imposteremo il percorso E col 5G Che è presente da tutte le parti Da tutte le parti Quindi quando qualcuno vi dirà Non raccontiamo delle bugie Perché il 5G Ha una potenza inferiore Rispetto al 4 e al 3G Quindi è un vantaggio Il radio di meno Invece sappiate che è una grossa bugia È vero che la potenza di radiazione è inferiore Ma le antenne devono guardarsi tra di loro E devono essere diffusi in maniera uniforme Perché se no la vostra macchina Quando voi andrete e leggerete il giornale La macchina vi condurrà dove deve condurvi Andrà a sbattere Se non ha una densità Di onde elettromagnetiche del 5G Che è sparso in maniera uniforme Su tutto il territorio Quindi vuol dire che se le antenne devono guardarsi tra di loro Per avere la possibilità di trasmettersi Vuol dire che se c'è in mezzo un albero Io lo devo tagliare E se c'è una casa Posso buttare giù la casa E no Ma entrerò nelle vostre case A mettere sul terrazzo Il ripetitore di quell'antenna E quindi guardate Che questo È una cosa che i sindaci devono pensare Devono valutare Perché ancora oggi il sindaco Ha la competenza sanitaria Dei propri cittadini La cui competenza sanitaria È della ASL È della ASS Ma a questo punto Però ASST ovviamente Ma Non è così La funzione del sindaco È quella di garantire La salute dei propri cittadini Quindi è un invito ai sindaci A pensare bene A quello che io vi ho detto Sì Il progresso Sei contro il progresso? Spaggiari No, no, no Anzi Io sono per il progresso Per carità Allora dobbiamo studiare qualche cosa Che salvaguardi Guardi la materia vivente Perché non sono solo uomo e la donna Sono gli animali che poi magari mangiamo E sono i vegetali che poi magari mangiamo E allora a questo punto bisogna stare molto Che sfuggirà quindi a queste onde No Allora adesso terminiamo Perché dobbiamo restituire la linea per la pubblicità Poi se vorrà Questo che ci ha spaventati per bene Ma c'è già molta inquiettitudine Sì In giro c'è È anche palpabile proprio Ci dirà se c'è un rimedio Sì certo Ok Grazie professore E grazie a voi che ci ascoltate Stavamo parlando Io sono rimasta molto colpita personalmente Dalla forza che sono riuscita a sprigionare E dalla sensazione di grande centratura proprio che avevo Di grande solidità di aderenza al suolo Che mi ha dato quello semplice sguardo che ho incrociato Con la nostra segretaria di redazione E ho detto al professore No ma sempre Se una persona porta con sé quella schedina caricata Avrà questa potenza Questa superpotenza proprio Sì È una grande sensazione di forza Proprio in una fase dell'età in cui non mi sento più così Così forte No e nemmeno così in equilibrio Ecco bellissimo Quindi non volevo deviare il discorso Ma poi arrivare anche al lato pratico Cioè possiamo migliorarci Quindi possiamo avere benefici C'è una medicina che ci viene incontro Ma adesso non la voglio distogliere Perché so che vuole mostrarci un filmato Vuole arrivare Sì Abbastanza velocemente al tema dell'importanza dell'acqua E come ci possiamo relazionare Esatto Abbiamo accantonato il 5G Ma se avanza tempo Lo possiamo fare Esatto Ci può un po' tranquillizzare Perché questo è un destino a cui non sfuggiremo Lei ha fatto bene a fare l'appello ai sindaci Hanno una grande responsabilità Però capisce anche lei professore Che ormai la telefonia ha un potere Un potere enorme Enorme Anche su tutti i governi Per cui non arresteremo Noi con le nostre singole azioni Proprio un bel niente No No Bisogna giustamente come diceva lei Vedere Siccome noi siamo uomini Che vediamo il futuro Che lavoriamo per il futuro Non possiamo pensare di dire Allora va bene Allora blocchiamo Tu allora sei contro il futuro Sei contro l'innovazione No questo no Noi siamo uomini dell'innovazione E a questo punto bisognerà vedere Cosa la tecnologia ci permetterà Di proteggerci Di proteggere le nostre case Come schermarci Ma proprio forse lavorando Sugli impianti Sui trasmettitori Sì signore Sì signore Va bene Poi ne parliamo Allora possiamo vedere Tutti viviamo sulla cresta dell'onda Possiamo vedere qualche immagine E forse converrebbe davvero Vedere il filmato? No Non ancora Prima prendo questo Un altro esperimento? Sì L'esperimento Ma che non vi consiglio Di fare a casa vostra L'esperimento Io lo illustrerò Quando daremo il via L'esperimento Che voi vedrete Ma Ho preso Questo bicchiere d'acqua L'altra volta ricordo Che così Ma come flash Mi sono domandato In questo bicchiere d'acqua Che è formato da Molecole d'acqua H2O 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 Sono due idrogeni E un ossigeno Ecco se qualcuno Mi domandasse Ma Quanti Quante molecole Ci sono dentro Questo bicchiere d'acqua Non saprei rispondere Perché? Perché le molecole d'acqua Le posso vedere come Dicevo Una specie di siluro Siccome l'idrogeno è positivo E sono due E l'ossigeno è negativo E vuol dire che io posso vedere Questa molecola d'acqua Come una specie di siluro Col più di qui E il meno di qua E a questo punto Qui dentro Io non vedo le cariche Evidentemente dell'H2O Ma si metteranno In un certo equilibrio È come dire che Il siluretto 1 Si collega col 2 Col 3 Col 4 Col 5 E con l'ennesimo Per fare Il mio bicchiere d'acqua Qualche uno di voi Potrebbe dirmi No, non è così Spaggiari Perché guarda Che la catena sarà Il primo siluretto Si collega col decimo Il decimo col trentesimo Il trentesimo col ventesimo Il ventesimo col centesimo Ah sì, puoi aver ragione Sì, sì Può essere Oppure Può essere un altro Collegamento Tra queste monete Perché Ci sarà un equilibrio Tra le cariche Voi sapete Che la carica positiva Attira cariche negative Le cariche negative Attirano le cariche positive Quindi qui dentro Questo bicchiere Non vedo le cariche Ma sicuramente Ci sono le cariche In equilibrio Tra di loro E se io muovo Il bicchiere Come sto muovendo L'acqua si muove E quindi scombinerò Quell'equilibrio Nascerà un nuovo equilibrio Tutto qua Ma Mi sono fatto portare Una cannuccia Qui dentro In questo bicchiere Nel racconto Che vi ho fatto Vi ho preso Leggermente in giro Non totalmente Leggermente Perché Perché vedete Nell'acqua Si formano Quelli che I fisici Hanno chiamato Domini di coerenza E adesso vi Spiegherò Cosa è il domini di coerenza Qui dentro In questo bicchiere È vero Che ci sono I raggruppamenti Che sono Come dire In equilibrio Tra di loro Ma non è La catena Che vi ho raccontato All'inizio Non è così Ci sono Una serie Di molecole Di acqua Che io Non vedo Che si Organizzano In domini Di coerenza Beh Devi spiegarmi Cos'è il domini di coerenza Allora farò Questo esempio Se io Dicessi In questo studio Accendite la radio Mettete una musica Che volete E guarda caso Entra dalla porta Un gruppo di persone Una parte Di quelle persone Sono ballerini E ballerine E gli altri Sono Sono dei pellegrini Che sono venuti Anche loro E io dico Scusate Volete ballare Sentendo questa musica E cosa vedrei Immediatamente E vedrei Che I ballerini Oscillano Tutti In perfetta Sintonia Sono tutti Coordinati E poi ci sono I pellegrini Intorno Che a questo punto Cercano di imitare I ballerini Ma sono tutti Scoordinati Diventa un corpo Di ballo Che fa schifo Ma invece I ballerini Ecco I ballerini Sono Coerenti Ballano In maniera Coerente Appartengono Al dominio Di coerenza Che Balla In perfetta Armonia In perfetta Sintonia Gli altri Gli altri Gli altri Cercono di fare Il loro possibile Ma li vedi subito Eh la miseria Ma guarda quello lì Ma guarda come si muove Ma no Che passi fa È scoordinato Questo vuol dire Dominio di coerenza Allora Torno al mio bicchiere E qui dentro Ci sono dei domini Di coerenza In cui Le molecole Dell'acqua Oscillano In maniera Coerente E intorno Al dominio Di coerenza Ci sono questi H2O Che girano Intorno al dominio Di coerenza Quindi Ogni Liquido Acqua Che poi lo vedremo Dentro il nostro corpo Cosa fa C'ha Dei domini Di coerenza E delle Movimenti Incoerenti Bene Adesso guardate Se vi dicessi Ma qual è lo stato Dell'acqua Eh lo stato Dell'acqua È liquido Te lo qua È gassoso Se io riscaldo Questo Faccio il vapore Hop Quindi gas E poi Eh se lo raffreddo Eh lo metto Nel freezer Attenzione Perché spacco Il bicchiere Diventa solido Aumenta di volume Non c'è nessun altro Liquido Che fa questo Che ha questo Comportamento Ma io conosco I tre stati Sì E certo Hai ragione Sì L'abbiamo studiato Caspita Liquido Gassoso E solido Adesso mi diverto Guarda un po' Metto Questa Cannuccia Dentro il mio bicchiere Sapete cosa ho fatto? Non l'ha scoperto Spaggiari L'ha scoperto Un ricercatore Che è direttore Di un istituto Importantissimo Americano E cosa ha scoperto Sto qua? Ha scoperto Che se voi Infilate Una qualunque Cannuccia Nell'interno Dell'acqua Intorno alla Cannuccia Si crea Una Acqua Le cui Carate Pensate Cosa vi sto Sto dicendo Le cui caratteristiche Chimiche Frega Frega Della fisica Perché adesso vado dentro il corpo Vado dentro il corpo Noi siamo Noi siamo Il 70% Del peso Di ciascuno di voi È acqua Ma se contiamo È dentro la cellula È dentro la cellula Guarda che bella immagine È dentro la cellula Sì signore È fuori dalla cellula Sì signore È dentro i tessuti duri Sì signore È dentro i tessuti molli Sì signore È dentro i tessuti vascolari Sì Celebrali Sì Cardiaci Sì È presente da tutte le parti Certo Allora Guardate bene Cosa vi dico Applico Questo teorema Ma la cellula È mica formata Da una membrana Dove dentro c'è l'acqua E fuori c'è l'acqua Poi dentro la cellula C'è il nucleo Eccola qua Guarda Ecco l'immagine finalmente E vedete Quell'azzurro lì È l'acqua interna Poi ci sono una serie di cose Che va bene Non stiamo qui a raccontare Fuori dalla membrana C'è acqua Ma Una cellula sana Se io mi divertissi A mettere uno strumento Che ha due elettrodi Che si chiama volmetro Ovvero misuratore Della tensione eventuale E metto un elettrodo dentro Quell'acqua E un altro elettrodo fuori Da quell'acqua Che cosa vedo? E vedo Vedo una cosa interessante Vedo che una cellula sana È una batteria È una batteria È come la batteria della macchina Sì Che posso ricaricare anche magari Sì Allora chiamiamolo accumulatore Che è meglio E quanto è La differenza di potenziale Si dice Tra l'acqua interna E l'acqua esterna Di una cellula sana Ve lo dico io È 0,07 volt Ovvero 70 millivolt Col meno dentro E col più là È una cellula malata Infiammata E mi accorgo Che la differenza di potenziale Diventa meno 50 millivolt È una cellula tumorale Bello questo Una cellula tumorale Meno 20 millivolt A cavolo Ma quella batteria lì Quell'accumulatore lì Della mia macchina Si scarica E ha bisogno di essere ricaricato Quello lì E certo Allora ci poniamo il problema Di come ricaricarlo E qui ritorna Il mio live Motivi Campi Le onde Ecco perché Viviamo tutti Sulla cresta dell'onda Sì Perché le mie cellule Le vostre cellule Devono essere riportate Ad una differenza di potenziale Che deve essere Di 70 volt 70 millivolt Medio Forse anche qualcosa di più Meglio ancora E la cellula che muore Differenza di potenziale Zero Ovviamente Ma allora questo signore Che ha scoperto Questa cosa qui Mi ha fatto un regalo Pazzesco Questo ha fatto un regalo Perché? Ma perché Se il meno di quella cellula lì È all'esterno Vuol dire che l'acqua Che è all'esterno Comincia a crearsi una barriera Che è negativa Intorno Al bordo E io cosa posso fare? Vi svelo un segreto Questa sera Io posso Aumentare Il bordo negativo E distanziare il più Mandarlo più in là Proteggendo La cellula Proteggendola Allora vedete Che quando qualcuno Mi dice Beh ma spaggiare Smettila Dai su Continui a parlare Di queste cose No Continuo a parlare Di queste cose Che saranno il futuro Per la protezione Della cellula Visto che parliamo Di attacchi virali Di attacchi Di batteri Di attacchi Di tutti i generi La cellula deve essere protetta Deve essere protetta Come? Creando una barriera Che più ampia è E più io proteggerò La cellula Dagli attacchi Di batteri Che hanno Batteri Virus Hanno un potenziale Positivo E se trovano il negativo Potrebbero accoppiarsi E cadere Protezione Della cellula Dalle aggressioni Quali? Quelle che vi ho raccontato E questo qui Che ha scoperto Questo Ha fatto una Grandissima scoperta Cari amici Ma vi devo dire Che sul libro Le meraviglie dell'acqua Non a caso Le meraviglie Le meraviglie Ma chi l'avrebbe detto? Le meraviglie Le meraviglie Le meraviglie Ma quanti segreti C'ha l'acqua Quanti segreti Quante sorprese Quante sorprese davvero Dovremmo ancora avere Avere E vi devo dire Questo Un grande cattedratico Dell'Università di Napoli Che è un chimico Quindi quasi quasi Un mio concorrente Noi siamo molti amici È un cattedratico meraviglioso Mi ha detto Telefonandomi L'altro giorno Ma sai Giorgio Una cosa Ma sai che se io Prendo Dell'acqua Ecco C'ho due bicchieri Prendo l'acqua Di questo bicchiere Lo metto Eccolo qui Prendo una pompa Una pompettina Quello che avete Per alimentare Gli acquari Quindi una pompettina Che costa niente Prendo l'acqua di qui E la metto di qua Beh Che cosa hai fatto Non è una grande scoperta Vuol dire Che da questa Da questo bicchiere Sei andato all'altro Che scoperta Che hai fatto Ma collega No Giorgio Sai cosa ti dico Che l'acqua Che io Trasferisco Da questo bicchiere A quest'altro Quindi passa Soltanto Attraverso una pompa Lo sai Che le caratteristiche Dell'acqua Che a valle Questo è a monte A valle Ha cambiato Le caratteristiche Biofisiche Eh no Non dirmi così Dai Come no Abbiamo fatto Tutti gli esperimenti Quindi il semplice fatto Che io metto In movimento L'acqua E che la faccio Circolare Dentro una pompa Cambio le caratteristiche Dell'acqua A valle Cambio E allora A questo punto Cosa posso dirvi Amici Allora non c'è solo Il quarto stato Dell'acqua Che vi ho raccontato Che è fondamentale Per il corpo umano È fondamentale Per il corpo umano C'è allora anche Il quinto stato Dell'acqua E chissà mai Andando avanti Il sesto Il settimo L'ottavo E l'acqua è tutta Da scoprire Ma io continuo a dirlo Nelle mie lezioni Quando faccio Ma San Francesco Dei secoli fa Quando parlava Dell'acqua Nel Cantico Delle creature Parlava dell'acqua E diceva Umile Utile E preziosa È facile Dire cosa vuol dire Umile Utile E preziosa Ma poi ha detto Casta Casta Ha detto Ma San Francesco Ma San Francesco Casta Perché 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 Casta Perché Tutta da scoprire Tutta da scoprire E noi siamo arrivati Al quarto stato Al quinto stato Dell'acqua Ma quando mai Abbiamo studiato Ste cose E noi Ma quando mai Anzi Se c'è un professore Di fisica O di chimica Che sta ascoltando Dirà che siamo diventati matti No No Non siamo diventati matti Il comportamento Dell'acqua È ancora tutto Da scoprire Ma soprattutto È tutto Da scoprire Nell'interno Del corpo Perché Ricontinuo a dire questo E adesso vado All'esperimento Arriva il filmato Ma perché Dentro l'acqua Guardate Dentro l'acqua Non posso farvi una lezione Perché se no Spegnete il televisore Ma dentro l'acqua Si crea Il campo elettromagnetico E attraverso Il campo elettromagnetico Si formano Per risonanza Le Come dire Le azioni Tra le molecole Che vanno a incontrarsi Per risonanza E chi è il regista Il campo elettromagnetico E allora vedete Che quando noi diciamo Tutti viviamo Sulla cresta Dell'onda Non diciamo Una cosa Che non ha Senso Ha un grandissimo Senso Ma dobbiamo Spiegare Il senso E io penso Che in questa Trasmissione Abbiamo già fatto Un grande sforzo A spiegarvi Tutto quello Che vi abbiamo detto E adesso Facciamo il tempo A vedere Questo filmato Sì Facciamo il tempo Perché Guarda che meraviglia Allora L'audio sotto L'abbiamo Praticamente C'è un audio Di fondo C'è una musica Ah va bene Quindi lei può parlare Tranquillamente Potrebbe andare Anche la musica Guardate Che qui ci sono I famosi due bicchieri Che io mi sono fatto portare Certo La cannuccia Non c'entra niente Guardate un po' Riempio il secondo Vaso Water bridge Si chiama Ponte d'acqua E guardate Cosa succede Adesso io ve lo racconto Ma guardate Prima le immagini Ci sono Questi due Contenitori E tra un contenitore E l'altro Nasce Un conduttore D'acqua Come se avessi Un tubo Dentro il quale Scorre l'acqua Ma a questo punto Come ho fatto A fare questa cosa Non l'ho fatta io L'ha fatto Un fisico Olandese Che studia Il comportamento Dell'acqua Che si chiama Fuchs E cosa ha fatto? Nei due bicchieri Ha messo Due elettrodi Due elettrodi È come se io Mettessi un elettrodo Qui E un elettrodo Qua E ha collegato I due elettrodi Non rifate Questo esperimento In casa vostra Con una Differenza Di potenziale Di 30 Dai 20 Ai 30 Mila volt Questo è 30 Mila volt E cosa vede? Vede Che l'acqua Risale Il bordo Di Di destra Del primo Bicchiere Risale Il bordo Di sinistra Del secondo Bicchiere Si collegano Facendo Un ponte D'acqua Vincendo La gravità Vedete che non si spacca E poi Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo filmato Che parte da così Allontaniamo I due contenitori Il ponte Diventa Più sottile E se lo illuminiamo Cosa che qui non vediamo Con della luce Vediamo Lo spettro Di quell'acqua Come se dentro lì Ci fossero filetti Di acqua Che scorrono Uno sopra L'altro Ma voi capite Cosa vuol dire Questo Ma è contro La logica È contro Tutto Non c'è più La forza di gravità Non cade giù A meno che Evidentemente Non distanziamo I bicchieri In maniera notevole È una cosa Che ha Lasciato Bocca aperta A tutti Perché noi Abbiamo fatto In diretta Quello che voi State vedendo Eccola lì Guarda È un tubo D'acqua Senza tubo Senza tubo E vede Allora Dottoressa Quando le dico Le meraviglie Dell'acqua Perché è evidente Guardate Che se io Metto Due elettrodi In questo bicchiere Ecco L'elettrodo primo È questo Il secondo Non ce l'ho Ma immaginatevelo E a questo punto Collego Una tensione In continua È chiaro Che scompongo L'acqua Io divido L'H2O Quindi l'idrogeno Va verso il meno L'ossigeno Che è negativo Va verso il più Si chiama Elettrolisi Cioè io faccio La separazione Di cariche Ma se io Vi prendo Due bicchieri E vi metto Il primo Elettro qui E il secondo Elettro qui dentro E metto E metto 30.000 volt E vedo che l'acqua Risale qua E risale qua E mi fa un ponte Ma questa è una cosa Meravigliosa Questa è una cosa Fantastica Che vive ancora Eccola lì Questa è una cosa Fantastica Sembra fantascienza Sembra davvero Qui magia Eh dai Ci avrei messo Un tubicino E il tubicino È trasparente E non lo vedo No è proprio Acqua Se ci metto Una mano in mezzo Cade giù Il tubicino Non c'è E questa Cosa vuol dire? Eh Vuol dire Che riusciamo Davvero creare Dei domini Di coerenza Che partono Grazie Alla grande Tensione Che c'è tra un bicchetto E l'altro Una grande Tensione Che mi crea Il ponte Ecco Io penso Cara dottoressa Che il ponte Noi lo stiamo facendo Il primo bicchiere È la biochimica Il secondo bicchiere È la biofisica E noi stiamo Creando il ponte Noi siamo Il ponte Grazie all'acqua Tra la biochimica E la biofisica Sono senza parole Immagino che Siano rimasti Molto Stupiti E impressionati Anche i nostri Telespettatori Anch'io sono rimasto Impressionato Perché noi L'abbiamo fatto Dal vivo Molto bello Allora giusto il tempo Di riprenderci Qualche secondo Minuto di pubblicità Poi saremo insieme Per l'ultima parte Anche con le vostre Telefonate Sono arrivati Alcune molto Molto intelligenti E complessi Immagino che siano Però Studiosi Ma gradiamo Sicuramente Anche quelle Molto più Terra a terra Dei telespettatori Nostri Tradizionali Con domande Semplici Perché poi Abbiamo tutti Anche un po' Una mente Pragmatica E quindi Dobbiamo anche Capire come Come ci cureremo Con questa medicina Quali saranno Le informazioni Che ci verranno date Abbiamo già avuto Un piccolo assaggio Di come Si può cambiare Anche L'equilibrio La forza Di una persona Con una semplice Schedina informata Ecco Quindi Meraviglia Proprio delle meraviglie Ok Vi aspettiamo Se volete Naturalmente Tra qualche istante Perfetto Allora Questo è lo spazio Dedicato a voi Telespettatori Diciamo subito Che Il telespettatore Che ci ha chiamato Dalla Svizzera Che è anche Penso Una persona in contatto Con il professor Ha fatto una domanda Complicatissima Però Signor Tiziano Magari O dottor Tiziano Non so Dottor Tiziano Molto bravo Immagino Ma Dalla domanda Complicatissima Che era il passaggio Transmembrana Tramite canali ionici Penso che Il professore Abbia già comunque Risposto Con Quando ci ha spiegato Quello che possiamo fare Che si dovrebbe fare Potenziando appunto Poi facciamo un regalo La membrana Della cellula Possiamo fare un regalo Speciale a Tiziano A Tiziano Che è un amico Molto qualificato Che svolge La propria attività In Svizzera Dire che Casomai Ce lo vediamo Tra di noi Questo È troppo È troppo Tecnico Per una Trasmissione di diffusione Mentre dicevamo Invece possiamo rispondere Ah no C'è già una telefonata Sentiamo che è in linea E poi rispondiamo Anche al signore Del braccialetto di rame Molto simpatica È pronto? Buonasera signori Buonasera a lei Con chi parliamo E da dove? Senta Io ho avuto un'esperienza Una trentina di anni fa Che conosco Un medico Che praticava La radiostesia Ebbene Questo medico Praticamente Sosteneva Di curare Alcune patologie Derivanti Dalle informazioni Del corpo Con il metodo Di risonanza Dello spin elettronico In altre parole Questo medico Aveva Sulla sua scrivania Delle fiale Con dei componenti Continenti Di batterino E lui Toccando la parte Malata Del paziente E col pendolino Faceva ruotare Il pendolino E se ruotava Vuol dire Significava Che c'era una risonanza Tra la malattia E questo E il batterio Questo medico Poi a questo punto Suggeriva Un antibiotico Io ho avuto Un'esperienza diretta Perché Una mia nipotina Aveva un'endocardite batterica Che non era assolutamente Curabile A detta dei medici Parlo di 30 anni fa E questo medico Trovò Che aveva Che aveva Un'infezione batterica Non un batterio E gli diede Un famo Che mi ricordo Benissimo Si chiama Cristicilligra Forzata Squib Fece una cura Con questa iniezione E la bambina Aveva un'endocardite batterica Molto grave E anzi Avevano detto addirittura Che era il fin di vita Questo Ora Io Non riesco a capire Perché Quando il professore Diceva Poco fa Degli fenomeni Elettromagnetiche Elettromagnetiche Tc di onde Ecc 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 Nel senso Che lui Sosteneva Per esempio Che tutti i batteri I virus Emettono Delle onde Che vengono Recepite Da alcune Recepite E che Il pendolino Era nient'altro Che un amplificatore Ora Io non so Come Che peso Attribuire a questo Però le assicuro Che ho mandato Che delle altre persone Parlo di 30 anni fa Questo medico Poi è morto E lui trovava Il batterio Che effettivamente Per esempio Parliamo del mal di gola No Mi ricordo anche Un mio amico Aveva una gravissima Forma di infezione Nel mal di gola E lui mettendo E trovava I farmaci Che Corrispondevano Entravano In risonanza Tramite lo sping elettronico Però ripeto Non essendo del mestiere Non vuole dire Un'enormità Ma la sostanza Era questa In pratica Sosteneva Che c'era una corrispondenza Fra il batterio Che emetteva Delle onde E L'antidiotico Che Adatto Che entrava In risonanza Con quel batterio Capisci E quindi Sosteneva Che era la cura Adatta Riferisco questo Non voglio Non esprimo Giudizio di questo genere Però le assicuro Che ha avuto Dei risultati Tra anche gente Che ho mandato Io Anch'io stesso Spaggiari Questo signore Ha espresso Dei concetti Che sono proprio Quelli di risonanza Di biorisonanza Devo dire Che qualunque elemento Che vive E l'abbiamo detto Questo signore È stato attento Emette onde elettromagnetiche Queste onde elettromagnetiche Possono essere confrontate Con Onde Altre onde elettromagnetiche Emesse Ad esempio Da un antibiotico Da un farmaco E a questo punto È evidente Che per fenomeno Di risonanza Io potrei dire Tu devi prendere Quel prodotto Perché quel prodotto Ti fa bene Perché è risonante Con il tipo Di patologia Che ha Devo dire Devo dire Che qui Tra tutti Gli ascoltatori Che stanno seguendo Questa trasmissione C'è un maestro Che è il professor Stagnaro Che mi sta ad ascoltare È un giovane Nel senso Che non è giovane Come età Ma è giovane E giovanissimo Come spirito E guarda caso Lui Che è un medico Ex primario Di un grosso ospedale Primario di medicina Quindi Lui Si è Commutato Convertito Totalmente Alla parte Direi di medicina Quantistica E cura Centrando Decisamente Le diagnosi Attraverso Dei sistemi Ovviamente Visita E utilizza Il fonendo Fa delle percussioni E sulla base Dei tempi Di reazione Lui può dire Se quell'organo Funziona Se non funziona E che cosa In effetti Ci deve fare Per andare A compensare Quell'organo È un grande Clinico Bene Un grande clinico Che sta entrando Che sta Perché lui È già entrato Molto prima Tanto è vero Che io Che non lo conoscevo E ora siamo diventati Molto amici Perché effettivamente È una persona Molto Molto Qualificata Bene Allora lo salutiamo Lo salutiamo Certo Perfetto Lui avrà inteso Sì sì Beh Abbiamo detto anche il cognome Professor Stagnaro Ah non mi era sfuggito Stagnaro Stagnaro Professor Stagnaro Allora Invece da Ancona Il signor Lazzarino Una domanda molto Molto più Terra a terra Lui dice Porta un bracciale di rame Può essere utile O dannoso Beh dunque Anche qui C'è qualche Mio collega Che sicuramente Mi sta a guardare È un biochimico Molto bravo Molto capace Della zona di Bergamo E devo dire Che uno di quei medici Che applica la biochimica Non attraverso protocolli Ma attraverso la valutazione Di esami Che il paziente porta E va a modificare Lui con vitamine Micro elementi Le funzioni Che devono essere Veramente integrate Non si applicano I protocolli Cosa che noi Generalmente Siamo costretti A fare Nell'interno All'istituto ospedale È così Vado così E applico Ma ognuno di noi È singolo Non è mica detto Che le cose Che vanno bene a lei Poi vengono Fatte bene anche a me Quindi bisogna valutare Allora Il microelemento Per l'ascoltatore Che porta il braccio E letto Il microelemento rame È fondamentale Poi bisognerebbe Verificare Se lei ha bisogno Veramente Di microelemento Di rame Perché se lei Mette il rame Che viene assorbito Dalla Dalla pelle E lei non ha bisogno Del microelemento Non le farà Nulla Però il rame È uno degli elementi Fondamentali Hai capito Io non avrei mai Immaginato Una risposta Così Importante Senta C'è Una signora Che Giustamente Quando tocchiamo Il tema Del 5G Delle antenne Delle Dell'elettro Diciamo Dell'inquinamento Elettromagnetico Perché anche Che viene definito Anche così In sostanza Come vero e proprio Inquinamento Andiamo a toccare Un nervo scoperto Ecco Lei si chiede La signora Antonella Si guarda come me Quanto siano pericolose Le antenne Soprattutto Del 5G Se sono montate Sul tetto Della propria casa Ecco Spero che non G sia già toccato In sorte Questo Dunque No 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 Le devo dire Che In Parlamento Chiedo scusa A lei Professore E anche Alla signora Antonella A cui risponderemo Però abbiamo già in linea Un altro telespettatore Possiamo dare la precedenza Che è in linea Poi ricordiamoci Pronto? Pronto? Buonasera Con chi parliamo? Buonasera Mi chiamo Valentina Chiamo da Pesaro Questa è una telefonata Molto molto curiosa La lascio parlare Col professor Spaggiari Prego Grazie Buonasera professore Buonasera Senta A proposito Di giochi elettromagnetici Diciamo così Ecco Mi è capitato spesso Per esempio Passeggiando Sul marciapiede Magari Della città Così Di Di vedere Al mio passaggio Per esempio I lampeggianti Di una casa Che magari È chiusa o vuota Di quelli Per il garage Quei lampeggianti Che aprono Il cancello E poi Mi capita Di andare In tabaccheria I computer Vanno in testa Terzo Può Accedersi Un allarme Antifurto Al mio passaggio Ecco Sono tutte robe Oltre Alla scossa In auto Che beh Quella la prendono Tutti Quindi Non lo so È una roba normale Oppure Grazie Grazie a lei Come si spiega Questo fenomeno? Vuol dire Che la signora È un generatore Di onde elettromagnetiche Questa È la dimostrazione E tra l'altro Onde elettromagnetiche Che riescono A mandare In risonanza I dispositivi Perché se accende Una lampada Che è quella Del garage Passando Vuol dire Che lei Fa risuonare Con la sua frequenza Quella apparecchiatura Per cui la lampada Si mette a girare E a questo punto Può suonare Può succedere davvero Come no? Ma certo Ovvio che può succedere Idem Il computer Quando va A giocare la schedina Piuttosto Va in tilt Certo Vuol dire Che lei Ha un grande potere Di far risuonare Tutti questi strumenti Può essere una fortuna Ma è anche una bella Insomma Può essere anche una sfortuna Eh sì Perché è pesante Da sostenere Vuol dire Signora Che la metteremo Quando lei va in giro La metteremo In una gabbia di Faraday Ovvero Una specie di scafandro In modo tale Che lei Anche se passa Da gruio Schermata Schermata Non riuscirà Non fa danni Non fa danni La signora Valentina No no Siete avvisati eh Tutti i abitanti di Pesaro C'è in giro La signora Valentina Attenzione Grazie comunque Per averci comunicato Questa cosa Per rispondere invece Alle preoccupazioni Di Antonella da Brescia Allora Allora E riprendere il tema Possiamo fare qualcosa Sul 5G Allora Le devo dire La signora E la signora Antonella Sì Da Brescia Allora signora Antonella Le devo dire Che lei Cade in un momento Meraviglioso Perché In Parlamento C'è un'interpellanza Parlamentare Che si chiama Che Porta il nome Di Spaggiari Ed Allegretti Che è un amico E che ci sta ad ascoltare Un'interpellanza Perché noi abbiamo scritto Un articolo scientifico Sugli aspetti negativi Del 5G E abbiamo fatto Una grande introduzione Legata al fatto Qual è l'interazione Di queste frequenze Con noi Con la materia vivente Bene Una deputata Ha preso Questo articolo scientifico Ha fatto un'interpellanza Al ministro Della salute Perché noi abbiamo detto Le cose come stanno Nella prima trasmissione Nella seconda trasmissione Abbiamo visto Qual è l'interazione Tra le onde elettromagnetiche E la materia vivente A questo punto Le devo dire Che lei ha ragione Di porsi il problema Di che cosa succede Se un'antenna A così alta frequenza Le viene messa sul tetto Posso dirle una cosa Che se è proprio sul tetto Magari se è il lobo Di trasmissione Di questa antenna Che è una specie Anche qui di siluro Che si irradia E deve essere collegata Visivamente A un'altra antenna Allora io penso Che se è proprio sul tetto Può darsi Che questo siluro Sia abbastanza stretto Per cui Se fosse così largo Prende sicuramente Anche In radiazione Tutti gli appartamenti sotto Ma c'è un sistema Per verificarlo Lei chiama Un tecnico Misuratore Di campo elettromagnetico Che arriverà Con uno strumento E quando Siccome l'antenna Funzionerà già Evidentemente sì Perché vuol dire Che il 5G Lì nella sua zona È stato già Purtroppo attivato E lei misurerà E lei misurerà In casa sua Qual è L'intensità Di campo elettromagnetico Che a questo punto Lei ha E allora Si potrebbe fare La legge ci protegge? Eh sì La legge La legge La legge È ben Oddio Adesso continuano A aumentare I limiti Mentre una volta Erano più restrittivi Adesso I limiti Guarda un po' Guarda un po' Esatto Guarda un po' Guarda un po' Comunque bisogna muoversi Chiami un tecnico Delle telecomunicazioni Evidentemente Arriva fuori Con questo misuratore Di campo E il misuratore Di campo Le permetterà Di dire Se nel suo appartamento C'è una intensità Che non è Accettabile Per Per noi umani Per la salute proprio Certo Eh? Questo? Sì sì Per noi organismi viventi E per noi organismi viventi Certo Perché poi ho detto Il problema Signora Si pone Sì per lei Che è la persona più importante Ma si pone anche Per tutte le cose Gli animali I vegetali Che sta Gli alberi Gli alberi Adesso li taglieranno Perché se un'antenna Deve guardarsi Ho detto Come dicevo E c'è un albero in mezzo Ti taglieranno l'albero Eh Ma se a questo punto Ma sa che è successo Anche qui da noi Poi si sono scusati Ma intanto Sono stati Tagliati Eliminati Probabilmente Il fine era questo Non era stata Una valutazione Errata Ovvio Allora Teniamo gli occhi aperti Stiamo svegli Perché come cittadini Abbiamo non solo doveri Ma abbiamo anche dei diritti E quindi vediamo Di farli valere Professore Volevo una grande curiosità Che forse Anche i nostri Telespettatori avranno Ma se un paziente Arriva da lei Come inizia La visita Che Usa delle strumentazioni A dei suoi Macchinari Che noi non conosciamo Allora Beh C'è poco tempo E ci stiamo Per saltare Magari In una prossima Trasmissione Al posto di essere io qua Almeno qualcosa La veniamo a vedere Venite voi Con la telecamera E io Sulla macchina Faccio vedere Magari Facciamo il test Con qualcuno Di voi Perché c'è La questione Della privacy Ovviamente Allora io spiegherò E farò vedere Perché questo è un altro Esperimento Operativo Certo noi partiamo Però siamo medici Quindi partiamo Da una visita Medica classica Ovvero Le facciamo L'anamnesi Quindi lei Perché è venuta da me Per quali sono I suoi disturbi Dopodiché la visitiamo In maniera classica Quindi come Fa un normale medico E abbiamo due strade Due possibilità O noi Facciamo Medicina quantistica Nel caso in cui Io ritengo Che sia giusto Che lei Venga sottoposta Ad un esame Che è un esame Sostanzialmente Dello spettro Di frequenza E tra le slides Ecco Forse Facciamo tempo Sì Se mandate In onda Lo spettro Di frequenza Io vi posso Spiegare bene Che cosa succede Le faccio vedere Quindi a quello Si può ricorrere Eccolo qua Eccolo qua Ecco Guardate Vedete Che lì c'è un Partiamo da Guardiamo le frequenze Partiamo da frequenze Molto alte Che sono quelle All'estrema sinistra Mia e andiamo a frequenze Molto basse Che sono queste qua E a questo punto Che cosa vediamo Che noi In fin dei conti Noi umani Abbiamo uno spettro Di frequenza Che è piccolissimo Rispetto Allo spettro Di frequenza Complessivo Vedete Abbiamo quello Che ho scritto Lassù Visibile Il visibile Perché il nostro Spettro di frequenza È quello Che i nostri occhi Ricevono Che vanno Da rosso Vedete Fino al violetto Poi A destra del violetto C'è l'ultravioletto Che noi non vediamo Ma molti animali Invece vedono E a sinistra Del rosso Ci sarà l'infrarosso Che noi non vediamo Bene Allora uno potrebbe Domandarsi Ma se viene da me Un mio paziente Io Faccio Vado a valutare Il suo spettro Di frequenza Ma il suo spettro Di frequenza Vedete Che è molto limitato Rispetto agli altri Per cui alle varie domande Che hanno fatto I teleaspettatori Se lei lavora Sul 5G Che è là Vede Quello tutto All'estrema destra Quelle ondine Là Sì sì Molto ravvicinate Ecco Molto ravvicinate Lì c'è una frequenza enorme Ma se lo spettro mio È quello lì Uno potrebbe dirmi Ma perché fai tutto Questo caos Perché io non lo ricevo Perché sono lì dentro Io ricevo solo Le frequenze lì dentro Perché Perché tu dici Allora Che c'è L'alta frequenza O la bassa frequenza Che è all'estrema Sinistra Rispetto alla destra Che sono elementi Entrambi di disturbo Che sono elementi Di disturbo Perché Se parlo di frequenze Basse Ci sono Quello che noi fisici Chiamiamo Le armoniche Che sono Frequenze Multiple Di quella Bassa Frequenza Quindi io dico 50 Hz Perché mi fa male Perché dovrebbe rientrare lì Perché ci sono delle armoniche Di 50 Hz Che entrano comunque Nel mio spettro Ma se vado Dall'altra parte Il 5G Perché mi fa male Se io ricevo solo Quello spettro Perché ci sono Le sotto armoniche Che vanno a finire Dentro il mio spettro Quindi Anche frequenze Che in teoria Non dovrebbero Disturbare me Disturbano attraverso Le varie frequenze Che sono Senta prof. Spaggiardi Siamo proprio al termine Della nostra trasmissione Ma ci sono I cosiddetti complottisti Che dicono Che attraverso Queste frequenze Vorrebbero anche Inviarci delle informazioni E modificarci anche Perché ricordiamoci Che il 5G Nasce come È una scienza militare In sostanza È così È così Però Ho premesso Siamo nell'ambito complottista Non la voglio mettere In imbarazzo Ma Da fisico Ci può dire Che si può arrivare A Creare delle modificazioni Sensibili Per Per gli organismi Viventi E per quello umano In modo particolare La risposta è molto semplice Sì Il punto è Che noi dobbiamo Veramente Fare in modo Che intanto Non sia possibile Fare questo Perché se no Diventiamo Persone Come dei rubidienti Quasi dei robot No? Perché se io riesco A pilotare lei Lei la pensa In maniera Magari totalmente Diversa da me Ma io piloto La sua Testa Per fare Quello che io dico E questo È un pericolo In teoria c'è questo pericolo In teoria c'è Una parte di umanità Così malvagia Ecco vede Io ritengo Comunque sempre Che la tecnologia Che può creare Degli aspetti negativi Troverà sempre Troverà sempre persone Come siamo noi Che cercheranno Di combattere Gli aspetti negativi Utilizzando Tecnologie Diverse Che possono Contrastare Questi Allora Questa è L'importanza Della scienza Utilizzare La tecnologia Più avanzata Possibile Per proteggere Il genere umano La nostra terra E poi il genere umano Lo amplifico Perché io parlo sempre Della Materia vivente Perché io non faccio Più distinzione Tra Perché Condiziono l'animale E certo che lo condiziono Condiziono il vegetale Ma poi dopo l'animale Il vegetale Serve Serve a noi Per alimentarci E quindi Comunque Le cattive Informazioni Che gli esseri Viventi Gli altri Inducono in noi Sono Decisamente Molto negative Quindi noi Dobbiamo tenere conto Che la tecnologia Da una parte Può creare Dei problemi Ma dall'altra Non dobbiamo demonizzarla Però dobbiamo essere Guardinghi Dobbiamo essere Guardinghi Sì È un solito Concetto di prudenza Io non so come ringraziarla Anche a nome dei nostri Telespettatori È stato Meglio Che seguire Proprio una lezione All'università Siamo stati anche Più comodi E soprattutto Egevolati Con la chiarezza Le auguro veramente Tanta salute Tanta energia Tanta Tutta la vitalità Che comunque Lei ha Forse avrà Queste Schedine magiche Ben caricate Promesso La promessa È stata fatta in diretta Possiamo entrare Nel suo studio No ma come no Certo Così facciamo vedere Come la medicina quantistica Da una mano Possa tradursi Proprio Già oggi Proprio D'altra parte La medicina quantistica L'applichiamo anche noi Già adesso Negli ospedali Non la chiamiamo Medicina quantistica Per non scandalizzare Però adesso è solo in ambito Diagnostico Ecco Diagnostica per immagini Sì Sì Però Ad esempio Se lei Ha una frattura E io voglio consolidarla Interviene la medicina quantistica Che era già nei libri Di 200 anni fa Sarà un'altra storia Questa Sarà la possibilità Di incontrarci un'altra volta Con il professor Spaggiari Grazie davvero tante E appuntamento Ai nostri telespettatori Alla prossima settimana Ovviamente facendogli scongiuri E per quei tempi Che corrono Siamo tutti Tutti viviamo Sulla cresta dell'onda E meditiamo Grazie Grazie a voi